Mi hanno confermato che la curva epidemiologica inizia a segnalare un declino, una stabilizzazione. Diminuiscono propostamente il numero dei contagiati. Possiamo ritenerci fiduciosi che continuando così riusciremo a superare la fase più acuta. Però attenzione, non possiamo allentare la soglia di attenzione. Non possiamo passare da un lockdown a una liberalizzazione delle attività produttive. Dobbiamo arrivarci per via graduale. Quando si comincerà la soluzione delle restriczioni? Probabilmente, se ovviamente gli scienziati e gli esperti ci conforteranno con i loro suggerimenti, potremo iniziare ad allentare qualche prima misura già verso la fine di questo mese. Do you regret being too slow to have implemented a full lockdown? Despite the fact that politicians in Lombardy, Chinese officials were advising it, your critics would say you didn't listen to them. Guardi, la perfezione non è di questo mondo. E io non sono così arrogante da pensare che il governo italiano è stato perfetto. Però, ritornando indietro, rifarei quel che abbiamo fatto, quel che ho deciso e che ho fatto. E le spiego anche perché. Noi non siamo a un modello anche ordinamentale, completamente diverso, istituzionale completamente diverso da quello cinese. Da noi limitare, ad esempio, libertà costituzionali è stato un passaggio fondamentale, un passaggio che abbiamo dovuto ponderare e valutare molto attentamente. Se avessi proposto un lockdown o la restrizione delle libertà costituzionali all'inizio, quando avevo i primi focolai, mi avrebbero probabilmente presso per pazzo. Non troverà mai una mia dichiarazione che dimostra di aver sottostimato questa emergenza. Il fatto poi che sia scoppiato un focolaio interno e l'abbiamo scoperto, ovviamente non ci può essere imputato. L'Italia ha sempre adottato misure di grande efficienza, sempre tempestive. Italy is at the moment performing roughly double the number of daily tests than the United Kingdom. What advice would you give Britain at the moment about testing? Innanzitutto permettetemi di salutare, mandare un saluto all'amico Boris Johnson e di dirgli don't give up, Boris. Sicuramente fare i test significa avere una situazione, cercare di avere questa situazione sotto controllo. Evitare di fare i test significa affrontare un po' questa situazione al buio. The latest economic forecasts suggest that Italy's economy could contract by over 11%. The debt will soar, the Italians will struggle to put food on the table. Italy is facing an economic collapse from this, isn't it? Does Italy feel let down by the EU? È una grande sfida, una grande sfida per la vita dell'Europa, per la storia dell'Europa. Noi non stiamo soltanto scrivendo dei manuali, delle pagine, nei libri di economia. Stiamo scrivendo nelle pagine, nei libri di storia. È un grande appuntamento con la storia che non possiamo mancare. Io e gli altri leader europei dobbiamo essere all'altezza del ruolo, del compito che in questo momento abbiamo. E non c'è dubbio che se la nostra risposta non sarà forte e coesa, se l'Europa non riuscirà a esprimere una politica monetaria, una politica fiscale all'altezza di questa grande sfida, la più grande dal dopoguerra a quest'oggi, sicuramente i cittadini non italiani, i cittadini europei, ne deriveranno grande delusione. Se l'Europa non riuscirà a questo challenge, la rischia europea di rischia di perdere? Il rischio c'è, il rischio c'è. Se noi non approfitteremo per rilanciare il progetto europeo, il rischio che lei intravede c'è realmente. È per questo che io non permetterò che questo rischio venga affrontato, lo voglio scacciare via. Il rischio di una parte più lunga che l'Europa ha avuto altri, includendo la Russia, per esempio, che hanno sentito l'aide e i medici all'Italia. La Russia usa l'aide come l'interno per l'Italia per rilanciare le sancioni? Puoi dire ora, la russia ha l'aide russi? Guardi, solo questo sospetto è una grande offesa per me, per l'intero governo italiano. Cioè pensare che gli aiuti che ci stanno arrivando, dalla Russia e non solo, dalla Cina e dagli altri paesi, possano essere e determinare una diversa collocazione geopolitica dell'Italia è veramente una grande offesa. Ma un'offesa non solo a me, è un'offesa anche a Vladimir Putin, col quale abbiamo avuto un intenso scambio telefonico, il quale non si permetterebbe mai di pensare, di utilizzare questa leva, questo momento in cui c'è da dare un segno di solidarietà, di sostegno all'Italia per questa finalità. non mi è stato assolutamente chiesto, non è stato neppure assolutamente immaginato. Tuttavia i vostri compatriati sono morti, morti sono trasformati, le famiglie sono rilasciate. Mi chiedo, quando vai a casa a niente e i vostri momenti più quieti, come senti personalmente per quello che sta succedendo qui? Questo sentimento di dolore per la grande ferita che la comunità nazionale sta attraversando, con cui si sta confrontando, è un dolore che mi accompagna sempre, perché sono dei numeri incredibili, ma sono anche dei nomi, dei cognomi, delle storie di vita, sono delle storie di famiglie spezzate. E questo mi addolora tantissimo e in questo momento la comunità nazionale sta soffrendo tanto.